Allora, Fabio Avaro, ti sposi ma non troppo? Mi sposo ma non troppo, sì, è vero, facciamo parte della generazione di non troppisti, come amiamo chiamarla io e Gabriella ormai da anni, quella generazione di persone che si vogliono impegnare nel matrimonio come in tante altre cose, però non troppo, cioè con un pizzico di libertà sempre, la porta di sicurezza, la porta d'emergenza sempre lasciata aperta, ecco, sì. Il tuo personaggio in questo film? Andrea, un allenatore di canottaggio, fidanzato da tantissimi anni con la sua donna, da sempre storica, con la quale è prossimo al matrimonio, e grazie al suo fisioterapista, il mio personaggio Andrea, viene a conoscenza del social network più in voga del momento, Facebook, dove cade in tentazione, quindi inizia ad allacciare un rapporto, un'attresca con un avatar, con un profilo inventato, ovviamente, non reale, da una personcina che si scoprirà essere nient'altro che invece la sua compagna nella vita reale, con la quale nella storia vera, nel loro vero rapporto di coppie, invece non stanno andando troppo bene le cose, quindi nella realtà stanno scoppiando, nella surrealtà di Facebook invece trova un'attresca e si innamora di una persona che non è nient'altro che la sua compagna, quindi l'intreccio è questo. Chiara Francini, com'è lavorare con lei? Toscana, tu sei romano? Sì, vabbè, Chiara, a parte che è una grandissima e bravissima professionista, mi sono trovato molto bene professionalmente parlando, ma Chiara poi è una persona che sprizza simpatia a 360 gradi, quindi con lei mi sono dato subito a mio agio e sono nati subito dei giochi comici, brillanti, che hanno dato tanta tanta roba, come si suol dire, a Gabriele Pignotta, il regista, tanta carne da mettere al fuoco per poter poi cesellare da bravo regista le cose che gli sono piaciute dei nostri giochi. Benissimo, con Chiara mi sono trovato sicuramente, sì, una toscanaccia doc. Fabio, quali sono i tuoi altri lavori in questo momento e le tue future occupazioni? Beh, tanto per iniziare, dalla prossima stagione, se si intende settembre e tope, inizia la mia stagione teatrale, con la compagnia sempre con Gabriele Pignotta, con le nostre commedie, in giro per tutta Italia, altrettanto faccio con il mio one show che ho scritto insieme ad un carissimo amico autore, Mario Alessandro Paulelli, bravi voi, io ho una vita che vi seguo, dedicata ai miei vent'anni di recitazione, dove interpretro i personaggi che ho fatto lungo la mia carriera e quelli che farò o che vorrò fare, che desidererò fare nel mio futuro, in un one show compagnato da una fantastica band, quattro matti che suonano l'ukulele, non ve lo racconto più di questo perché vi voglio a teatro a vedermi, quindi porterò in scena anche questo bravi buio, una vita che vi seguo e poi aspettiamo anche notizie nel campo cinematografico perché abbiamo altri progetti sia con Gabriele che con altre persone, insomma un bel po' di carne al fuoco. Allora in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Grazie. A teatro, a presto e al cinema ancora prima magari, grazie.